Venezia, Sestiere di San Polo Benvenuti in questo nuovo video in cui, malgrado i miei problemi alla gamba, sono ancora reclusa a casa, cercherò di riassumervi i punti di interesse del Sestiere di San Polo. Il Sestiere prende il nome dal campo San Polo, il più grande di Venezia dopo Piazza San Marco, e dall'omonima chiesa. Comunque è quello di minor estensione, è ricco di botteghe artigiane e piccole esterie tipiche veneziane, i baccari. Di maggior rilievo storico in quest'area è la zona di Rialto, con il suo ponte e il tipico mercato di pesce e verdura. Del mercato ne abbiamo già parlato diverse volte, diviso fra la loggia della pescheria e il campo dell'erbaria, oltre a essere uno dei più antichi d'Italia, è il cuore pulsante del quartiere. Sui muri delle loggie si possono ancora vedere le lunghezze minime dei diversi pesci, stabilite sotto il doge. Il mercato è raggiungibile anche grazie alla gondola traghetto, che per 2 euro ti fa provare l'esperienza low cost per attraversare il Canal Grande. A pochi passi dal mercato abbiamo la chiesa di San Giacomo, detta dai veneziani San Giacometto. La tradizione la considera la chiesa più antica di Venezia, 421. Particolare della facciata è un orologio, costruito nel 1410 e rifatto nel 1749, con il quadrante suddiviso in 24 ore. Uno dei miei video parla anche del palio che fanno qua ogni anno, con dei giochi tradizionali, tipici veneziani. Vi metto tutto sulla playlist. Di fronte alla chiesa abbiamo il Gobbo di Rialto. La statua rappresenta un uomo accovacciato che sostiene una piccola rampa di scale. Detto Gobbo per la sua posizione, affiancato ad una colonna di granito rossa detta Colonna del Bando. Fu usato come podio per i proclami ufficiali. Il comandador leggeva le leggi più importanti della Repubblica di Venezia, o i nomi dei condannati a morte, stando in piedi sul blocco, sopra la pietra del Bando. Sempre a pochi passi potrete anche vedere il sottoportico degli Oresi, dove un tempo erano raccolte le botteghe degli Orefici, in cui potrete notare sul soffitto dei bellissimi affreschi esterni, cosa ormai un po' rara per la città. Sempre nella zona potete trovare numerose curiosità, tra cui dei proverbi e detti veneziani scolpiti sulla pietra. Divertitevi a cercarli. La sera i giovani si ritorneranno qua per bere l'aperitivo. Non a caso qui abbiamo una concentrazione dei bacari più antichi e famosi, Cantina Domori, Dospade, Al Banco Giro. Ho fatto un video per conoscerli e provarli tutti. Se invece volete conoscere le leggende della zona, dovrete vedere il video apposito, appunto, delle leggende di San Polo. Nel sestiere potete quindi trovare la chiesa di Santa Miraglorosa dei Frari, la più grande chiesa di Venezia, 102 metri di lunghezza e alta 28 metri. A 17 altari monumentali e al suo interno sono custodite molte opere d'arte, tra cui due dipinti del Tiziano. Inoltre, ospita tombe e monumenti funebri di numerose personalità legate a Venezia, tra cui Claudio Monteverdi, lo stesso Tiziano, Antonio Canova, oltre numerosi doji. Noi ci abbiamo fatto un video che ve l'illustra e con l'occasione vi mostra anche il bellissimo presente dei Frati che fanno ogni anno a Natale. Bellissimo anche il coro, unico in Italia, posizionato antistante all'altar maggiore, come era d'uso ai tempi del Medioevo. Bellissimo anche iloug Grazie a tutti. 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 Per quanto riguarda gli istoranti in zona San Polo ne ho recensiti diversi. Steakhouse Grill per mangiare della buona carne, la zucca per una cucina a tema, per la cucina tradizionale veneziana le poste vece accanto al mercato, la porta d'acqua molto esclusivo, la regina sconta e infine le antiche carampane. Da me preferito, con l'occasione visiterete la zona in cui nel passato venivano concentrate le merettrici, ponte delle tette e fondamenta della stua. Se volete un'esperienza top qua, avete l'albergo della nostra amica Nicoletta, Palazzo Barbarigo, con vista sul Canal Grande. Magari se siete interessati riusciamo a strappare uno sconticino per quelli del canale. Che dite? Mi pare di avervi dato qualche consiglio per la scoperta del Sestere di San Polo. Spero che vi sia d'aiuto. Vi metto in descrizione la playlist che raccoglie tutti i video delle cose che vi ho descritto, per approfondire. Noi comunque ci sentiamo al prossimo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. in più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di Paypal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Grazie.